ciao è buio scusa mamma la musica stiamo andando ad Antegnate non lo so stiamo andando ad Antegnate e non lo so e in una fiscina magari se se riusciamo facciamo qualcosa e poi caricheremo anche quello carichiamo anche questo ci sarà un morto no no non farlo ok io sono passata con rosso sei passata con rosso vergognati un attimo lì sono passata con rosso guardi di qualcosa ma cosa aspettavi a mettere la cintura ok bravi tanto la mia la patente cazzo non c'è niente dentro la patente? via insomma diciamo qualcosa non lo so insomma noi facciamo dei video da caricare intanto non abbiamo ancora il canale non è che inizia da lire non è che inizia da lire però passate un attimo lì non è che inizia da un attimo perché stavo dicendo che noi facciamo tanti video abbiamo fatto il video ieri abbiamo fatto due pochi ieri guardi se ho messo i soldi adesso guarda se c'è dentro un 50 euro un attimo allora io qua vedo un 5 se no mi tocca tornare un 50 ma il problema non è tutti sti video che stiamo facendo che saranno 6 o 7 che non abbiamo il canale ma non abbiamo il canale no 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 noi non so dove cripio ricaricheremo e guarda la telecamera va fuori troppo che non mi ha finito anche la telecamera non mi resta aspetta dai aspetta dai Simo c'era Simo c'era Simo guarda Simo con gli mici lo mettiamo sotto lo mettiamo sotto mamma mamma ciao saluta si ci hanno fatto gorgio la prana un telefone Si A BASSA dove è NANO a fì mi ha lasciato lì ora ci vediamo ad ANTONINA abbiamo dimenticato NANO